Il Campobasso vince la terza gara in una settimana e conferma la propria leadership in classifica. I Rosso-Blu vincono nel loro momento meno brillante e questo significa molto ai fini dell'obiettivo finale. Il Castelfidardo contiene bene ma non riesce a realizzare il pareggio. Rimane in inferiorità numerica nella ripresa, destando ugualmente una buona impressione. Decide la prima rete stagionale con il Campobasso di Dalmazzi. Dirige il signor Rispoli di Locri. Prima della gara saluto fra due vecchi amici come Cudini e Lauro. Al quinto iniziativa interessante in area Rosso-Blu da parte di Giambè che prima va via Dalmazzi, poi è il difensore di casa a rinvenire in maniera pulita sull'avversario. Al diciassettesimo il destro di Esposito si spegne docilmente fra le braccia di David. Il Castello scende a Selvapiana molto offensivo e determinato. Il Campobasso specie nella prima parte di gara prova a prendere le misure all'avversario. Al ventunesimo i marchigiani chiedono un penalti in maniera composta e Vanzanna di intervenire su Capponi che dà un'occhiata al direttore di gara. Non c'è nulla per il signor Rispoli. È una partita che riserva delle emozioni sporadiche ed è anche equilibrata. Al ventiseisimo il tiro di Candellori non può spaventare David. La partita è molto aperta. La palla gol migliore è ospite. Alla mezz'ora gran pallone da sinistra di Mataloni con la corrente Capponi che calcia troppo debole per beffare Raccichini. A Selvapiana il possesso è quasi tutto del Castelfidardo che contiene bene il Rosso Blu. Ma la capolista trova le sue conferme al 35esimo quando da calcio di punizione di Esposito la deviazione è giusta da pochi passi. È quella di Dalmazzi che realizza il gol del vantaggio. Rosso Blu avanti e primo gol stagionale del difensore toscano. In sostanza se gli altri giocano ma non realizzano la capolista non si fa pregare due volte per segnare al riposo con la squadra di Cudini in vantaggio. Con le immagini di Antonio Trotta siamo nella ripresa al terzo. Il tiro di Esposito è bloccato da David Rammarico per la punta di casa. Al settimo intervento di Pucca su Van Zan che protesta ma è tutto ok per il direttore di gara. Il Campobasso invoca un calcio di rigore nella circostanza. Lauro decide di cambiare dal decimo fuori Giambè dentro Mancini. Al diciassettesimo episodio curioso con Raccichini che smista per Menna il quale non colpisce il pallone con la presenza contemporanea in area di Monachesi che cade. L'arbitro viene richiamato dall'assistente il quale intima al Campobasso di ripetere il rinvio proprio perché il secondo tocco di Menna non c'è stato. Gara ricca di episodi. Al ventunesimo cross avvitato di Dalmazzi. La palla è colpita da Pucca in area in maniera indeterminata. Anche qui il Campobasso si trova a protestare. Rosso-Blu in superiorità numerica dal ventitresimo. Quando Van Zan in area affronta il già ammonito Capponi. Per l'arbitro Capponi simula e merita il secondo giallo. A fine gara il tecnico del Castelfidardo ammetterà che l'espulsione del suo giocatore è giusta. Castelfidardo in dieci e Cudini qualche secondo dopo pensa di sostituire Rossetti per fare entrare Cogliati. Nel Castelfidardo in campo anche per Pepai, per Monachesi. Il neo entrato al trentatresimo gira troppo debole un calcio di punizione di Diddio. Il Campobasso ha il torto di abbassarsi un po' troppo. Al trentasettesimo da angolo di Bracciatelli stacco ravvicinato di Perpepai che termina alto sopra la traversa. Grossa occasione per i marchigiani. Altrettanto importante è quella del trentanovesimo sulla testa di Menna da angolo di Esposito. Anche qui la palla finisce di un soffio fuori. Cudini dal quarantesimo fa entrare Tengorang al posto di Ladu. Nel finale al quarantaduesimo il Castelfidardo si fa apprezzare per il cuore da Diddio a Braconi che fa partire un tiro angolato, pericoloso ma non preciso. I marchigiani tornano a casa con una buona figura ma senza punti mentre il Campobasso si frega le mani per la terza vittoria consecutiva in una giornata che per dinamiche ha ricordato la partita di domenica scorsa contro l'Aprilia. Domenica rosso-blu nella tana del Monte Giorgio.